Dall'Ossola ad Amatrice con un tir carico di aiuti per gli allevatori terremotati. Il camion è partito oggi da Premosello nel primo pomeriggio stipato di balle di fieno e anche con sacchi di mangime e due generatori. L'arrivo a destinazione è previsto verso le 23. L'iniziativa è di Enrico che ha trovato tanti amici pronti a dargli una mano da chi ha messo a disposizione il camion a chi ha fornito il carico. E' già il secondo carico che portate giù, giusto? Il primo però non era ad Amatrice ma dove è stato? Il primo è stato a Capriglia di Pievetorina in provincia di Macerata. Questo è il secondo carico, arriveremo questa sera vicino ad Amatrice, poi viene distribuito a sette allevatori questo, chi ha 20 mucche, chi ne ha 10, chi ha già preso altra roba magari prende qualcosina meno. Hanno già deciso loro com'è la divisione. Lui resterà ad Amatrice nei prossimi giorni per monitorare e documentare con foto e video che gli aiuti vengano consegnati ai destinatari come concordato nella massima trasparenza. Ma non si vuole fermare qui, racconta di situazioni davvero difficili. Non hanno molti aiuti e non erano preparati a un disastro del genere ovviamente. Poi se uno non si reca sul posto, sentirlo dire così, guardare la televisione, il telegiornale, uno se non arriva lì a vedere come è capitato a me, non riuscirà mai a capire la realtà vera. Non ti aspettavi una situazione del genere? No, no. Poi io vabbè sono un amante degli animali. Chi volesse contattare Enrico può farlo attraverso Facebook. Intanto il ringraziamento a chi ha reso possibile questa partenza. Marco Scarsetti, Ettore Corsini, Davide Scaglia, i fratelli Brisi, Olino Giovanola, gli amici di Cambiasca e tutti coloro che in vari modi hanno dato una mano. Grazie a tutti.